La situazione umanitaria in Siria rimane preoccupante a causa dei continui scontri, del Covid-19 e delle interferenze politiche esterne. Questa situazione, insieme alla già conclamata recessione economica del paese, continua ad avere un grande impatto sui 4 milioni di persone che vivono nel nord-ovest del paese. Un decennio di conflitto ha obbligato circa 2 milioni e mezzo di persone a scappare dalle loro case solo nel nord-ovest e circa 3 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria per soddisfare i loro bisogni di base, come alloggio, cibo, acqua e salute. Proprio sulla salute e sull'accesso all'acqua potabile, per mitigare l'incidenza dei contagi da Covid-19, si concentra il progetto di AIBI e del suo partner locale, Kids Paradise. Questa iniziativa, realizzata con il finanziamento della provincia autonoma di Bolzano, garantisce il diritto alla salute e all'informazione, contribuendo alla prevenzione della propagazione di malattie virali tra la popolazione di sfollati internamente nel nord-ovest siriano. Grazie a questo progetto, 315 famiglie hanno ricevuto acqua potabile nei campi informali per un periodo di 8 settimane e altre 180 famiglie hanno ricevuto kit igienici per un periodo di 3 mesi. Delle 180 famiglie selezionate, 65 hanno neonati a carico, pertanto hanno ricevuto un kit speciale al mese per prendersi cura dell'igiene dei più piccoli. Amici dei bambini, dal 2014 supporta le famiglie vulnerabili del nord-est siriano, tormentate dalla guerra e dalla miseria. Anche oggi, a fronte di una pandemia mondiale, AIBI ribadisce l'impegno a garantire il diritto alla salute per tutti, in particolare per i più piccoli.